Oggi pianterò dei nuovi fiori. Ho un sacco di terriccio universale, del concime, vaso e sottovaso, la pianta. Questi guanti, se dovessero rompersi, non vanno nella raccolta degli imballaggi di plastica, vanno nell'indifferenziata. Taglio il terriccio, lo riempio per metà, poi prendo la mia piantina, trasfilo il vasetto di plastica e spalgo la terra tutto intorno. Ma voi lo sapete che riciclando la plastica si può dare nuova vita a un sacco di oggetti e ottenerne di nuovi? Questi sono stati ottenuti riciclando al 100% la plastica. Il vasetto del vivaio, la plastica che fondava la pianta, il sacco del terriccio universale, il flacone del concime vanno nell'imballaggio della raccolta della plastica, mentre guanti, vaso e sottovaso, la girandola, il tubo dell'irrigazione andranno nella raccolta indifferenziata. Eccola qua la nostra piantina pronta per andare sul balcone. Grazie a tutti! 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 Grazie a tutti!